buongiorno a tutti oggi siamo nella splendida cornice di cartore e niente ragazzi oggi tenteremo il muro lungo passeremo dal lago della duchessa con noi oggi c'è sarà buongiorno e poi abbiamo alfonso grande alfonso ci siamo quasi al millesimo iscritto ve la dico quella cosa quindi dai dai scrivetemi e poi oggi come sempre nonostante tutto anche con il mal di schiena il grande zio e un video chiamato buongiorno a tutti mi dispiace che tutti i pazzi che non c'ho che non c'è sto oggi arriviamo al primo cartello primo incrocio e alfonso adesso ci dice che cosa facciamo ma guarda prendiamo quel sentiero di là perché questa mattina questo di qua dicono che è meglio non farlo non si sa il motivo perché quindi faremo primo tratto sempre molto impegnativo un bel dislivello e se sente se sente si sente però bello impegnativo ma bello io odio questo tratto di salita l'odio proprio cambia la temperatura adesso un po del bel venticello fresco assolutamente dopo una bella sudata sta tutto facciamo un piccolo stop per me d'enda la rifugio Gigi Panei e adesso siamo ripartiti a un cazzo di bel freddo finalmente un po' di sole siamo a pochi passi dal lago della Tuchessa che sta proprio qua dietro dopo di che ecco il muro lungo andremo su questa cresta fino alla cima non hai i capelli stiamo salendo siamo lasciati dietro il lago della Tuchessa e adesso andiamo ad attaccare alla cresta abbiamo tagliato praticamente invece di fare il sentiero qua che dal lago poi parte dietro alla cresta abbiamo tagliato diretti alla cresta passiamo di qua per poi andare su al muro lungo e ci ramponiamo Alfonso piccolo strappetto al polpaccio ha risolto subito una bella busta dei brufeni non è uno strappetto da sottovalutare ma vediamo al 50% lo do se arrivo in vetta credo 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 di no e niente ragazzi ci ramponiamo e ripartiamo abbiamo fatto non si sa quale via finalmente siamo sotto il muro lungo da quella parte il velino e adesso so cazzi ci siamo durissimo veramente dura mi ha rotto veramente il culo ad essere francesi ma ce l'abbiamo fatta anche oggi muro lungo 2.184 siamo tornati al riferimento giugio gigi panei siamo mangiati tutto una bella camminata fantastica su a pezzi siamo mangiati salame cantucci di te morte vino bianco d'alfonso il minestrone il salame la pizza abbiamo mangiato tutto la zuppa di mamma betta la zuppa di mamma betta la zuppa di mamma betta buonissimo e quindi dopo che ci siamo mangiati tutto ragazzi iscrivetevi al canale perché quando arrivate a mille vi dico quella cosa è bella sono seriata a mille è bella è bella raga è solo a mille sarà solo a mille solo a mille no grazie grazie